Il mare, le prime navi, la visione coraggiosa di un uomo, Massimino Ciro D'Amico, commerciante di legname. Il percorso della nostra azienda parte da qui. E l'Italia del secondo dopoguerra, le navi Liberty, i primi ordini ai cantieri, l'inizio di una linea merci dall'Italia al Mediterraneo orientale, rilanciano l'attività armatoriale. Così inizia l'impresa della famiglia D'Amico. Negli anni 50 i figli di Massimino Ciro, Antonio, Ciro e Salvatore danno vita a D'Amico, società di navigazione. I tre fondatori segnano le linee guida che la società continuerà a seguire nel tempo. Pragmatismo, intuizioni sul business, attenzione all'innovazione tecnica e alle esigenze del mercato animano una comune visione, far crescere l'azienda e affermarla sul piano internazionale. Ciro e D'Amico lo ripeterò forse troppo spesso, ma è stato il mio maestro, il mio tutto. In questa azienda è stato il mio tutto. Tra gli anni 70 e gli anni 90, Paolo e Cesare raccolgono la sfida imprenditoriale e portano avanti la mission dell'azienda. Si affronta una delle stagioni più difficili del settore. Non è stata facile acquisire un'azienda pubblica, fra l'altro in un settore come quello di linea, che noi c'eravamo da tanti anni, ma era un mondo che stava cambiando rapidamente ed era un mondo molto complesso. Eppure, con una attenta strategia industriale e l'obiettivo della continuità dell'azienda, D'Amico realizza nuovi piani di investimento per la sua espansione. Questa azienda ha superato varie fasi ed è approdata finalmente a quello che è oggi, un'azienda ormai presente in vari paesi del mondo. Sono gli anni 2000, D'Amico assume le caratteristiche di Operatore Globale, una grande azienda italiana con sedi in tutto il mondo, che risponde ai cambiamenti del mercato, coniugando sviluppo e rispetto della tradizione imprenditoriale di famiglia. La quotazione in borsa di un nostro ramo d'azienda, la D'Amico International Shipping, che è il nostro ramo cisternero. Oggi i figli di Paolo e Cesare si preparano ad affrontare il futuro dell'azienda, riconoscendo il valore delle scelte che pagano nel lungo termine, generose come il mare sa essere. Ora, come ai suoi esordi, l'identità della famiglia e del gruppo è proiettata verso il futuro. Un'azienda che oggi è sicuramente multiculturale, un'azienda sicuramente moderna, un'azienda internazionale. Una storia di passione, impegno, eccellenza, per migliorare costantemente, seguendo una rotta che punta all'innovazione, allo sviluppo, senza conoscere frontiere. L'investimento dell'azienda in termini di formazione e di spinta alla crescita è molto alto. È un investimento che crea al tempo stesso professionalità e motivazione, produce crescita. E questo ha sicuramente prodotto in me la convinzione di essere in un'azienda vincente. Perché D'Amico è anche questo, un team di persone di paesi diversi, che parlano tutte il linguaggio del mare. D'Amico è in grado di fornire eccellenza nel trasporto marittimo in tutto il mondo, grazie a una moderna flotta, versatile e tecnologicamente avanzata. Di personale di bordo altamente qualificato, tutte le navi sono gestite rispettando i più alti standard di qualità, sicurezza e chiaramente nel rispetto dell'ambiente. La tecnologia è andata sulle navi, andata anzi forse principalmente sulle navi. Ci troviamo davanti delle sfide non indifferenti che le norme internazionali, le norme europee, le norme italiane ci impongono. Ma ci lo impone anche un certo senso di responsabilità e di amore per il mare su cui noi lavoriamo. Un'eccellenza che si esprime nella costante cura per la sicurezza, l'efficienza di una flotta, la professionalità delle nostre persone. Per questo motivo investiamo continuamente in tecnologia e informazione. La serietà, l'etica, la prudenza, la maniacale attenzione all'ambiente che noi poniamo a livello industriale, perché qui veramente non sono accettabili compromessi. La giusta visione, i valori alla base delle nostre scelte, azioni e comportamenti sono i mezzi migliori per attraversare il mare. Il costante impegno sul piano della responsabilità sociale e l'attenzione alla salvaguardia dell'ambiente rappresentano per noi l'investimento più importante per il futuro del pianeta. da 60 anni, d'amico e il nome di una grande azienda è un modo di vedere il mondo e il mercato con gli occhi delle nostre persone.